Ben trovati amici del Centro Meteo Italiano. Nuovo peggioramento meteo sull'Italia con il transito di un piccolo fronte freddo che porterà qualche pioggia già nel weekend. Secondo le ultime uscite dei modelli, infatti, l'anticiclone lascerà spazio a correnti più fredde e instabili già da domenica 30. In particolare sono attese precipitazioni sparse specie sull'Adriatico e al Sud Italia, accompagnate da un sensibile calo delle temperature che per il finale dell'anno potranno portarsi anche 3 o 4 gradi sotto le medie su queste zone. Tempo più asciutto sul resto dell'Italia con l'anticiclone sempre protagonista al nord e sul Tirreno. Nebbie e nubi basse saranno ancora presenti soprattutto sulla pianura padana, ma in maniera meno persistente. Vi invitiamo comunque a seguire tutti i prossimi aggiornamenti anche in vista del Capodanno, sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meti Italiano.